L'11 febbraio prossimo sarà celebrata la Giornata Mondiale del Malato, un appuntamento della Chiesa Cattolica che ricorre tutti gli anni da quando il 13 maggio 1992 Papa Giovanni Paolo II l'ha istituito. Anche le diocesi di Assisino, Ceraombra, Gualdotadino e di Foligno partecipano a questo importante appuntamento, come spiega Marina Menna, responsabile dell'Ufficio per la Pastorale della Salute. La Giornata Mondiale del Malato è un appuntamento importante per gli uffici di Pastorale della Salute in tutta Italia e quindi anche a livello diocesano perché è un'occasione propizia per far sentire e riservare la nostra attenzione a tutti i malati, ai parenti, a tutti coloro che si occupano dei malati e ad essere loro vicini. Il titolo di quest'anno? Il titolo di quest'anno è molto significativo perché è stato scelto questo, Abbi cura di lui, la compassione come esercizio sinodale di guarigione. È un titolo molto pregnante e può essere letto su due aspetti. Il primo è quello che riporta alla compassione, il provare compassione, la naturale compassione del buon samaritano che si prostrò nei riguardi di una persona sofferente. Ecco, quanto è importante la compassione per tutti noi, quanto noi dovremmo impegnarci in questo, quanto noi dovremmo attuarla, attivarla con azioni concrete. Ma perché questo? Perché è importante prendersi cura dell'altro? Prendersi cura dell'altro è importante perché la motivazione è senz'altro da riportare al riconoscimento del valore della dignità umana, dignità umana che si ha a prescindere dalla condizione in cui ci si trova. Abbiamo bisogno delle pandemie, ecco, delle epidemie per risvegliare il nostro senso di compassione e solidarietà? Ecco, diciamo, vorrei in particolare citare la solitudine. La solitudine che hanno provato tantissimi malati, sia ricoverati, ma anche malati che si trovavano nelle loro case, in territori non vicini a centri cittadini. Ecco, il tema di quest'anno riporta anche l'attenzione su questo aspetto, la solitudine. Se pensiamo, ad esempio, alla solitudine degli anziani, ecco, si assiste quasi ad un paradosso, il paradosso per il quale, in base ai nostri stili di vita, siamo arrivati al fatto che poi le persone vivano sole. E un anziano solo tende a volte anche a ritirarsi in se stesso, tende a non voler avere, diciamo, l'aiuto degli altri o dei prossimi, dei figli, della famiglia. Molte volte si ritiene in se stesso perché dice, do fastidio. E quindi questo stato di solitudine che si prova proprio per affrontare questi aspetti, molto spesso è anche una solitudine affettiva. E questa solitudine affettiva è pericolosa perché tende ancora di più a chiudere la persona e ne impedisce la resilienza. Avremo due appuntamenti in collaborazione con l'ufficio della pastorale della salute della diocesi di Foligno, ce li vuole ricordare? Gli appuntamenti sono due quest'anno. Il primo, l'11 febbraio, alle 15.30, presso la chiesa di San Paolo, in via del Roccolo, adiacente all'ospedale di Foligno, in cui Sua Eccellenza, Monsignor Sorrentino, celebrerà la liturgia per il malato e quindi potremmo pregare per malati, famiglie ed anche operatori sanitari. Il giorno dopo, il 12 alle 15.30, presso l'unità pastorale di Santa Maria degli Angeli, avremo un incontro, un incontro dedicato ai ministri straordinari della comunione. proprio inerente alla tematica di quest'anno. Questa è una figura molto importante a livello diocesano, una figura di volontariato, di persona che decide di dedicarsi all'altro, dare conforto.